Fa caldo, nella città mia fa caldo, con lei che balla caldo, tanto quanto, un forno caldo è caldo, ma me la canto è caldo, come il tuo impianto caldo, nella città mia fa caldo, caldo. Esco di casa, una inoltrata, e già nell'aria qualcosa di un po' diverso, non è più inverno, non è più freddo, l'aria è più affosa, una rondine su di me vola, una vecchietta... Amici telespettatori di LucaniaTV.it, un saluto cordiale da Pino Carlo Magno, sempre piandato qui, fisso qui a Panghino Frisco, un'altra intervista, un'altra persona che ci è venuta a trovare, lui, lo vedete, credo, accanto a me adesso è inquadrato, è Pierluigi Scaldaferri, lavora in banga, vita tranquilla, molto tranquilla, finché un giorno Pierluigi si alza e con degli amici, per usare un verbo pesante, poi lui giustamente mi contraddirà, fonda una nuova organizzazione, un nuovo movimento che si chiama Lauria Attiva e che sembra già dal nome presentarsi bene, perché a mio modesto avviso già incomincia a essere attiva. Allora, prima domanda che ti pongo Pierluigi, era necessario, con 150.000 associazioni che abbiamo a Laurie sul territorio, quest'altra associazione? Sì, ciao a tutti, parto con una battuta, vita tranquilla da bancario, direi con i tempi che corrono, era già abbastanza complicata. Ce l'era bisogno, noi oggi dopo circa sei mesi di attività, perché ci siamo presentati a dicembre, anche se ci siamo costituiti esattamente un anno fa, quindi festeggiamo il nostro primo compleanno in agosto, però siamo attivi da dicembre e oggi Lauria Attiva è una realtà, quindi dopo sei mesi di bilancio possiamo dire che la scelta è stata quella giusta, l'idea vincente di un gruppo di persone che si organizzano dal basso per incidere e occuparsi dei problemi di Lauria facendo cittadinanza attiva. Senti Pierluigi, le priorità di questo movimento? Diciamo subito, e mi colpì quando fece la presentazione mesi fa qui al Rione Superiore, mi colpì una cosa Pierluigi, tua e del gruppo. Partiamo subito, dicevano loro, ve lo dico in soldoli per fare presto, non abbiamo bisogno di posti, non abbiamo bisogno di niente, perché ringraziando a Dio i componenti di Lauria Attiva lavorano tutti, quindi non c'è bisogno che devono andare dal politico di turno, dal prete di turno per avere un posto. Premesso questo che è molto importante per capire loro cosa vogliono, le priorità secondo Lauria Attiva per il nostro paese, quali sono? Diciamo che sì, noi facciamo altro nella vita, veniamo da percorsi e formazioni diverse, siamo quasi tutti ragazzi che sono tornati a Lauria o che hanno deciso di restarci, di non partire, e quindi ci siamo messi insieme per fare qualcosa di concreto. Il nostro obiettivo è la cittadinanza attiva e quindi riaprire un dibattito in un paese in cui secondo noi non si discute più e fare delle proposte concrete. Siamo partiti con una iniziativa che ha avuto molto successo, alla quale abbiamo lavorato tanto, sul tema dell'immigrazione, ci siamo impegnati anche col comitato per il sì relativamente al referendum delle Trivelle, abbiamo organizzato come sai con Oissa il dibattito con i tre candidati a sindaco per le comunali di giugno, abbiamo utilizzato spesso lo strumento dei questionari, che è uno strumento di indagine che riteniamo valido e che probabilmente utilizzeremo anche in altre circostanze. Abbiamo quindi come primo obiettivo quello di fare cittadinanza attiva, ma abbiamo anche come obiettivo quello di fare delle proposte concrete. Pochi giorni fa abbiamo incontrato il nuovo sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, incontreremo a breve anche le altre due liste, tradizione e innovazione, progetto Lauria, e gli abbiamo consegnato un pacchetto di proposte, tra l'altro a costo zero, che riguardano una, il fatto che il centro storico di Lauria debba ritornare a vivere, quindi a Lauria abbiamo deciso di delocalizzare dal punto di vista industriale come era giusto, ma anche dal punto di vista commerciale, però una politica longimirante non può abbandonare il centro, quindi noi crediamo che il centro storico di Lauria debba tornare a vivere e faremo delle proposte in questo senso. Abbiamo fatto anche delle proposte che riguardano il nostro campo, la nostra mission, che è la cittadinanza attiva, cioè l'idea di aiutare le scuole, sostenere le scuole, collaborare con le scuole, per dei progetti appunto di educazione alla cittadinanza attiva. Crediamo che ci sia bisogno di educazione civica, che ci sia bisogno di educazione ambientale, che ci sia bisogno di educazione finanziaria, sono un po' le nuove basi dello stare insieme, del fare comunità, del vivere civile, e quindi questi sono progetti che siamo pronti a seguire. Abbiamo fatto anche una proposta che riguarda il sociale, crediamo che a Lauria ci sia un grande problema di disagio sociale, abbiamo proposto un osservatorio, noi siamo pronti a collaborare anche alla scrittura di un disciplinare, e abbiamo pensato a un osservatorio sul disagio sociale e abbiamo pensato a delle prestazioni dei cittadini su base volontaria, modello banca del tempo. Ovviamente non abbiamo tempo di parlarne in questa breve intervista, ma è solo per dire che vogliamo da un lato fare cittadinanza attiva, quindi riaprire dibattiti su questioni importanti in questo Paese, nel frattempo perché no, anche fare politica nel senso di occuparci della cosa pubblica facendo proposte concrete. Pierluigi, qualcuno aveva detto quando voi siete nati, sì ma questi poi finiranno, mancavano pochi mesi alle comunali di giugno, questi finiranno che si candideranno la solita associazione che nasce prima delle elezioni, clamorosamente smenditi. Sì, direi clamorosamente smenditi. C'erano state tante voci, noi l'abbiamo detto subito, insomma siamo persone serie, abbiamo detto subito che nonostante la vicinanza della nostra nascita con la tornata elettorale si trattava di una mera coincidenza e se avessimo voluto scendere in campo lo avremmo detto, non era nelle nostre intenzioni, non lo abbiamo fatto. Questo non vuol dire che sia preclusa questa strada, anche perché ci tengo a dire una cosa, la reattiva in questi mesi ha avuto tante nuove adesioni, abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti, tanti complimenti e abbiamo ricevuto come sempre anche tante critiche e noi ovviamente le apprezziamo perché ci aiutano a crescere. Ecco una critica che invece respingiamo con forza al mittente è quella di fare politica, nel senso che noi rivendichiamo, no qualcuno dice sì però l'associazione però alla fine fate politica, ma noi rivendichiamo il diritto e il dovere di fare politica, nel senso che Pierluigi Scaldaferri, Antonio Carlo Magno, Domenico Gelsi, Lorenzo Di Giorgio, non è che prima di laurea attiva potessero avere delle opinioni e adesso siccome c'è laurea attiva noi non abbiamo più voce in capitolo. Quindi noi rivendichiamo anche nel nostro tentativo di fare cittadinanza attiva a laurea, in un paese complesso come laurea, rivendichiamo perché no anche il diritto di fare politica e quindi un domani non ci precludiamo alcunché. Come è parsa a laurea attiva, come è parsa la nuova giunta comunale? Il sindaco è pieno di idee, lo vediamo che va avanti e indietro, corre di qua e di là sul territorio locale, selfie, foto, video molto importanti in cui comunica la gente quello che è successo nella settimana. Mi pare positiva la cosa, come la vede laurea attiva? Bella domanda Pino, ma io terrei distinti i campi, nel senso che c'è un giudizio politico secondo me e c'è invece un giudizio sull'azione amministrativa o sulle qualità della giunta e del nostro primo cittadino. Il giudizio politico su Angelo ovviamente non è un giudizio politico positivo, ma credo che a pensarla come me siano tantissimi cittadini, nel senso che Angelo Lamboglia aveva creato una possibilità concreta di alternativa in questo paese e invece oggi siamo di nuovo al punto di partenza, per cui noi possiamo raccontare qualunque cosa, la rivoluzione democratica, il muro di Berlino, però io credo che tutti i cittadini di Lauria ce l'hanno detto, credono che politicamente il giudizio sia negativo perché quella di Lauria Libera, come ho detto in tante occasioni, rimane una questione molto controversa. Però detto questo, che è un giudizio politico, il giudizio amministrativo ovviamente prescinde da questo tipo di valutazioni, quindi io credo che Angelo andrà valutato nel merito, è una persona le cui qualità sono note e devo dire, come tu hai detto, che l'inizio ci piace, ci sembra un sindaco dinamico, tante ore al lavoro, un sindaco molto social, con tutti i pro e i contro di questo strumento, perché sicuramente aiuta la trasparenza, l'informazione e noi facciamo di questo un cavallo di battaglia. Il rischio certe volte è poi che non si capisca mai quello che realmente c'è dietro, quello che realmente accade o quello che realmente succede, però devo dire che il giudizio sicuramente su questo primo mese è positivo, abbiamo apprezzato un'enorme voglia di lavorare, di mettersi in gioco, perché no, anche di collaborare con le altre forze politiche, con le associazioni, con la società civile e quindi direi che la partenza è buona, fermo restando che siamo ancora ad un mese, per cui è presto per dare un giudizio definitivo. Pierluigi, l'estate passerà, arriveranno l'autunno, l'inverno, che cosa ti aspetti tu da laurea alla ripresa della vita, tra virgolette, normale, dopo questo periodo lungo di vacanze? Io mi aspetto una laurea che abbia sempre più voglia di discutere e di fare comunità, è uno dei nostri ritornelli, però è importante, noi diciamo sempre anche alla politica di non governare i quartieri ma di governare laurea, credo che si debba tutti insieme tornare a fare comunità, anche in questo senso rivivere il centro storico che ci sembra un po' abbandonato, può essere un'opportunità e un'occasione, quindi quello che io mi auguro è un paese dove ci sia una certa effervescenza, anche culturale, dove ci possano essere iniziative, noi ci faremo nel nostro piccolo promotori di molte iniziative in questo senso, però un paese che possa tornare a fare comunità, il territorio non ci aiuta, è un territorio molto dislocato, quindi la tentazione di fare ognuno per sé è forte, io credo che laurea si salva solo se ritroviamo questo spirito di comunità e se tutti insieme torniamo a discutere e a pensare al nostro futuro. Senti, una domanda veloce che potrebbe provocare polemiche, lo sta già facendo su Facebook e sui social, non ho capito perché, i giovani, i giovani che in questo periodo estivo sembrano impazziti per i Pokémon, a questi giovani che sembrano un po' così, con la testa non sulle spalle, ma è veramente possibile che un giochino possa, scusatemi il verbo, rincoglionire i giovani nella fattispecie, i giovani laureoti? Perché sui social non si parla d'altro, molti giovani contestano quelli che scrivono male, dei giovani che vanno a Pokémon, un altro giovane mi ha detto, ma veramente è un'occasione per uscire, per stare fuori, poi certo si va scappando così, ma stiamo tutti fuori, si discute. A sti giovani di laurea, anche essi colpiti tra virgolette da questo gioco, cosa possiamo dire? Io terrei distinti piani, da un lato sicuramente oggi mancano dei riferimenti, è chiaro che siamo bombardati dai media, dalle mode e finiamo per subirle, finiamo per non pensare, questo è un problema che ovviamente ci vorrebbero ore per discuterne, però credo che sia un problema fondamentale, io credo che la scuola in questo possa essere importante, quando noi diciamo che serve educazione alla cittadinanza attiva, serve da questo punto di vista l'aiuto anche dei genitori, perché se i genitori non ci danno una mano, non danno una mano agli educatori e quindi alla scuola, a chi fa quello di mestiere, non a noi che ci proviamo nel nostro piccolo, io credo che oggi i giovani dovrebbero avvicinarsi di più a quelle che sono le parole chiave del futuro e che sono sicuramente economia, ambiente, diritti, farlo in maniera anche ludica, perché no? Una delle nostre proposte è proprio quella di poter avere un centro culturale a laurea per giovani e per meno giovani dove magari anche i giovani possono perché no imparare giocando, quindi io credo che da un lato si debba fare in modo di far capire che ci sono delle parole chiave, delle cose importanti, non noiose, che servono a interpretare il futuro e su quelle bisogna fare leva. Da un lato io non sono, come si dice, manicheo in questo, cioè non dico che ogni cosa è pericolosa di per sé, ci sono state mode o peggiori dei Pokémon. Quello che dico ai giovani è di non subire le mode, ma di provare a essere un po' più protagonisti. Per chiudere Pierluigi, un augurio a laurea da te e da laurea attiva in particolar modo? Ma io amo questo paese, noi amiamo questo paese, siamo scesi in campo per amore di questo paese. Per cui io l'augurio che faccio a laurea è quella che possa vincere le sfide e le sfide del futuro. Ci sono sfide importanti, viviamo in un periodo di grandi cambiamenti, viviamo in una situazione di crisi economica particolarmente difficile, viviamo anche un momento politico particolarmente complesso, per cui auguro a laurea di superare tutte queste sfide, non sarà facile, con quelle che sono le nostre caratteristiche e la nostra forza, e cioè la generosità, la voglia di stare insieme, l'ottimismo e il coraggio. Ecco, credo che questo è l'in bocca al lupo che faccio col cuore ai nostri concittadini. Bene, io ti ringrazio Pierluigi Scaldaferri, seguiremo le vicende anche nei prossimi mesi di laurea attiva, vi terremo informati. Per il momento è tutto, grazie ancora Pierluigi. Grazie a voi. E arrivederci a voi alla prossima occasione. Grazie a voi. Grazie a voi.